Mi sembra giusto dover mettere in chiaro alcuni punti importanti e focalizzarmi su di essi perché molte cose non sembrano essere chiare per quanto scontate. Ciao ragazzi, io sono Tuccio Lorenzo come sempre qui su Tuccio TV e bentornati in un nuovo video dedicato all'Energy Drink. Questo ragazzi sarà un vlog serio per cui precludo la massima serietà da parte di tutti anche nei commenti perché quella di oggi sarà una tematica importante. Voglio focalizzarmi su una cosa che per quanto possa essere scontata in realtà non lo è. Alcolici e Energy Drink. Io parto con una premessa dicendo che davvero io non sono responsabile delle azioni e della vita altrui. Ognuno è libero di fare quello che vuole, ok? Ognuno ha in mano la propria vita e può decidere che cosa fare. Se fumare, se ubriacarsi, insomma ognuno può decidere della propria vita. Non sono io a dire cosa bisogna fare o meno. Questo vuole solo essere un video informativo, un video istruttivo che esplica delle informazioni, nient'altro. Io non sono nessuno per andare a dire quello che bisogna fare o meno. Poi sta ognuno di voi decidere ragionare sul da farsi o meno e trarre le proprie conclusioni. Ragazzi, alcolici e Energy Drink. Due realtà che per quanto diverse, per quanto distinte, hanno dei fattori in comune. Partendo, precludendo che entrambi i prodotti, se consumati in dose eccessive, hanno delle conseguenze poco o meno gravi, a seconda del soggetto, a seconda di tanti fattori, ok? Sta di fatto che voi immaginate unire queste due cose, cioè proprio fare un mix, un'unione. Sono tante le occasioni in cui vediamo questi due prodotti consumati assieme. Appunto, c'è chi si specializza nella vendita e nella creazione di questi prodotti, tipo vodka, Red Bull, tutte quelle robe là. O proprio chi, proprio di spontanea volontà, si mette a creare, no? Si mette a sperimentare, unisce alcolici e Energy Drink e le consuma entrambe. Allora, questa cosa, dal mio punto di vista, ma poi non solo, perché poi andando a vedere concretamente i vari studi, le varie ricerche che si fanno in quest'ambito, nonostante io non sono molto esperto, alcune cose sono scontate, alcune cose non andrebbero neanche dette, non avrebbe neanche senso più di tanto questo video. Però sta di fatto che il consumo di entrambe, effettivamente, può portare degli effetti multipli. Partiamo con la Energy Drink. Noi sappiamo che l'Energy Drink, in sé per sé, va a stimolare corpo e mente, rilasciando delle endorfine. Quindi va a stimolare alcune parti, e sostanzialmente come? Con taurina e caffeina, in dose abbastanza elevate. Abbiamo tutte le vitamine, gli zuccheri, ma poi degli zuccheri parleremo a parte. Gli alcolici, gli alcolici anche questi vanno a stimolare da un certo punto di vista. Noi sappiamo che se si beve in maniera moderata, comunque degli effetti li dà. Poi possono variare da persona a persona, però, se non ci facciamo caso, Energy Drink e alcolici, bene o male, hanno gli stessi effetti sul corpo. Tendono a stimolare, tendono in parte anche a dare energia. Cioè, ragazzi, diciamo che comunque questo tipo di bevande vanno veramente a stimolare la nostra psiche e ad alterare anche i nostri sensi. Quello che voglio mettere in chiaro è come se, unendo queste due cose, noi andiamo a raddoppiare e triplicare, ma non c'è neanche bisogno che lo vada a ribadire, che l'eccesso causa dei problemi, l'eccesso ha delle conseguenze. Non è solo una questione una volta ogni tanto. Perché, ragazzi, ci sono situazioni che poi a lungo andare vanno a degenerare, ok? È un po' come il fumo. Magari all'inizio non ci accorgiamo degli effetti negativi. A lungo andare, se poi interrompiamo, se uno decide di smettere di fumare dopo tanti anni, scopre quante cose sono cambiate nel proprio corpo, la percezione degli odori, la resistenza a tante cose. E lo stesso accade appunto con queste bevande. Cioè, per quanto sembrano innocue, in realtà ci sono degli accorgimenti che vanno tenuti in mente, perché a lungo andare sappiamo che possono accadere delle cose molto gravi. Partiamo con gli zuccheri. Gli zuccheri in eccesso, lo sanno tutti, lo sanno pure i muri di casa mia, che lo zucchero in eccesso ha come conseguenza diverse problematiche legate al fegato, allo smaltimento di tutto questo zucchero, problemi legati al diabete, problemi legati appunto al metabolismo, ma tante altre cose che davvero, a lungo andare, cosa portano? Che conseguenze hanno? Hanno proprio sul nostro fisico un decadimento, poi si sviluppano anche dei mali interni purtroppo, eh? Io dico purtroppo si sviluppano dei mali brutti, nascono situazioni veramente spiacevoli e mi dispiace, ma perché? Nel complesso, cattive abitudini, io non parlo solo di energy drink e alcolici, ma cattive abitudini, vizi pressoché malevoli per il nostro fisico, tutti insieme vanno a portare delle conseguenze più o meno gravi. Poi per carità, c'è chi fuma da una vita e arriva magari sanissimo a 90 anni, vi faccio un esempio banale, ci sono casi e casi, soggettivi o meno, cioè sono tanti i fattori da tenere proprio in mente, però sta di fatto che alcuni effetti li vediamo nel tempo, ce ne accorciamo, ce ne rendiamo conto, e lo stesso vale per queste bevande, cioè qui andando a mischiare due cose, voi immaginate che poi anche queste bevande unite assieme alcolice energy drink, andando ad alterare spesso in maniera pesante e incisiva. La nostra psiche, sapete che può portare poi a dei problemi successivamente, per le varie trasmissioni celebrali, ci stanno tantissimi problemi, di cui spesso non si ha conoscenza delle conseguenze di queste azioni, poi possono subentrare anche altre problematiche, ripeto, psichiche. Quindi bisogna fare attenzione, bisogna fare attenzione anche perché, ok che noi conosciamo il nostro corpo, sappiamo com'è fatto, ma allo stesso tempo dobbiamo capire che molte cose sono imprevedibili, certe cose noi non ce ne accorciamo, uno potrà anche dire non ci faranno mai male, però in realtà dopo col tempo gli effetti si vedono. E uno dice, vabbè ma adesso è presente, penso a divertirmi, poi del futuro chi se ne frega. Però bisogna fare attenzione, perché ho visto gente in una situazione, in situazioni, che sinceramente non augura nessuno, nemmeno al mio peggior nemico. Quindi, ok che uno deve viversi il presente, non metto in dubbio questa cosa, che uno deve divertirsi, però ci sono anche qui dei limiti. Questo se poi significa sofferenza dopo, star male dopo, rischiare inutilmente che cosa, perché c'è gente che ha avuto degli ictus, ha avuto dei problemi, che poi hanno portato anche a delle paralisi, perché quando arrivano gli ictus, cioè in base a come molti sicuramente lo sapranno, però purtroppo ci sono delle parti del corpo che vanno a paralizzarsi, non sono più sostanzialmente sensibili, non si perde proprio la capacità sensoriale, tante cose, abbiamo proprio una perdita, un decadimento a livello celebrale, cioè sono tante cose che vanno tenute in conto, ma non è solo l'alcol, perché alcolici e energy drink, sappiamo, hanno degli effetti, noi li conosciamo bene, basta che leggiamo sul retro del prodotto, abbiamo un'etichetta, abbiamo delle informazioni sui siti, abbiamo dei dati, abbiamo degli studi, abbiamo tante cose in mano, da consultare, da vedere, cerchiamo di capire che conseguenze si hanno, perché davvero, poi su noi stessi, possono subentrare delle problematiche gravi, alla quale poi, una volta commesso il danno, non si torna indietro. Io ho un amico, che lui era un fumatore accanito, e ha smesso di fumare, ha ripreso da poco, con la sigaretta elettronica, quindi cosa ha fatto? Ha smesso, ha iniziato con la sigaretta elettronica, quindi ha fatto questo percorso, sta facendo questo percorso, per smettere di fumare, e mi ha detto, io sento meglio gli odori, io sento meglio i sapori, non si era reso conto nel tempo, di come il fumo gli facesse male, prima anche lui diceva, eh però, ognuno è libero, se scegliere di fumare o meno, eccetera, è vero, però poi mi ha detto anche, adesso che ha smesso di fumare, adesso che ha preso la sigaretta elettronica, e sta piano piano, no, smettendo, sta piano piano, lasciando star, col che sono tabacchi, e quant'altro, sigarette, mi fa capire, come quanto si è cambiato il suo approccio, proprio a livello sensoriale, percettivo, coi sensi, quindi ragazzi, la stessa cosa poi, si va a subentrare, anche per quanto riguarda energy drink, alcolici, perché noi, continuando a sforzare il nostro corpo, poi vedremo dei risultati col tempo, e quando poi andremo a interrompere questa cosa, ci renderemo conto di quanto si è cambiati, io ragazzi concludo qui questo video, spero di avervi fatto riflettere, spero che queste parole non siano andate al vento, e che possano far comprendere la realtà a molti, io concludo qui, e noi ci becchiamo alla prossima da TucciTV, ciao!